La scorsa sono stata una festa dell'Avis e ho detto che rappresento un ente che avrebbe bisogno di trasfusioni, qui dico che rappresento un ente che avrebbe bisogno di prendersi l'ubriacatura sopra e dimenticare per qualche ora, ma la provincia, che posito parte di scherzi, è l'ente che ha partecipato, sia nell'altra provincia di Astia di Saldia, all'associazione Unesco, che tuttora la sorregge, da cui derivano queste iniziative. Però, seppure noi siamo manifestatori pubblici e oggi dobbiamo lavorare molto di fantasia, vi dico che io sono dalla parte dei consorzi di natura privata che cercano di mettere assieme le persone, di dare il cappello alle diverse iniziative, di dare a tutte le aziende, di tutte le dimensioni, la possibilità di girare il mondo con i nostri prodotti, le aziende che possono e devono fare utili, perché gli utili vanno reinvestiti in parte, bisogna pagare le tasse e poi quelli che restano ogni imprenditore può fare cosa gli pare, possibilmente anche in contanti. Io teorizzo questo perché tutto il resto sono palle, viviamo in un altro mondo, siamo terra a terra, vi amo e penso che tutti i sindaci faranno la loro parte, di dare un aiuto, di segnalare delle aziende, di portarle a voi, di fare quello che si può fare, che non costi niente, questi sono qualcosa in testa, perché possiate veramente costruire qualcosa che porti i nostri prodotti che voglio valdo alla carta e viva i fatti. Perciò vi voglio. Grazie.